Davanti ai 1800 spettatori del Bonolis, di cui 300 dall'Aquila, il Teramo torna a vincere il derby del Gran Sasso a distanza di quasi tre anni con i gol dei giganti Moreo e Caidi. Decisivo il secondo tempo, meglio interpretato dai padroni di casa, anche se l'Aquila grida vendetta per l'occasionissima sciupata nel finale da Perna. Come nelle previsioni il tecnico di casa Vivarini conferma l'undici che ha impattato ad Arezzo con Moreo preferito a forte, Cecchini a sinistra e Petrele inizialmente in panchina. Mossa a sorpresa di Perrone rispetto allo 0-0 col Pisa, San Domenico Largo nel 3-5-2 al posto di De Francesco con De Sousa ad affiancare Perna. In campo gli ex Ligorio e Milicevic. In tribuna tanti addetti ai lavori, il presidente del Pescara Sebastiani, i papabili di S Teramani, Minguzzi e Lupo, quello del Lanciano Leone, l'ex tecnico Frentano d'Aversa. L'avvio di partita è al piccolo trotto ma le prime fiammate sono di rilievo, 14esimo, punizione di Milicevic e spettacolare sforbiciata di Bulevardi che con il palo, la risposta a Teramani è vincente, discesa di Cecchini che mette dentro un pallone basso e teso che fa fuori la difesa aquilana, piattone di prima intenzione di Stefano Moreo e palla all'incrocio. 1-0 per il Diavolo che torna a segnare dopo tre partite. Per l'Airone, sesto gol, l'ultimo lo aveva segnato a Lucca lo scorso dicembre. Il Teramo però non sfrutta bene il vantaggio, perde il capitano Speranza per un problema muscolare alla mezz'ora, dentro Caidi. L'Aquila fa fatica a creare con San Domenico troppo fuori dal gioco e centrocampo povero di idee. Così dopo alcuni belle itali tentative della distanza, la squadra di Perone può approfittare delle incertezze del portiere Teramano Tonti che al 38esimo regala un pallone a Perna, il quale non ne approfitta. E dopo sei minuti respinge male un destro dalla distanza di San Domenico, Bulevardi in posizione regolare, in sacca per il suo primo gol in maglia rosso-blu. Nella ripresa Perone toglie De Sousa, dentro De Francesco e San Domenico di punta, ma il Teramo a giocare con un piglio più autoritario. Già al quinto sponda di Moreo per Di Paolo Antonio che impegna Scotti, al nono spunto di Brugalette, cross per Le Noci che schiaccia il tiro, alto di un soffio. Al ventesimo Vivarini gioca la carta Petrella al posto di Paolucci, ma al ventiquattresimo a strappare applausi è ancora l'airone Moreo con questo numero. Ottima la sua partita. L'Aquila torna a farsi vedere al ventottesimo, il corner di San Domenico mette in affanno Tonti per rotta salva sulla linea, poi l'ex Milicevic nel mucchio viene murato. E dopo tre minuti arriva il gol partita, corner Didi Paolo Antonio e colpo di testa imperioso di Nebil Kaidi al suo secondo centro stagionale. Il Teramo gestisce il risultato fino al quarto minuto di recupero quando San Domenico offre un pallone solo da mettere dentro a Perna che incredibilmente sbaglia. Il Teramo sorride, all'Aquila resta il rammarico e la rabbia dei propri tifosi. Il Teramo ha fatto secondo me una buonissima prestazione in linea con le altre. Oggi siamo stati un po' più fortunati sugli episodi, anche se abbiamo avuto altre occasioni che potevamo far gol. Però siamo riusciti a fare due gol, quindi questo è qualcosa di grande che ci ha permesso poi di legittimare sicuramente il risultato. Non solo per l'azione finale, ci sono stati sicuramente parecchi episodi che non ci hanno girato bene. A partire dal pallo interno, due salvataggi sulla linea, il tiro ai Milicicci impallato, il gol che è venuto da un'azione irregolare precedente, un fallonnetto su Cosentini non fischiato e poi l'ultima azione. Quindi ce n'è per essere rammaricati.